amici stiamo tornando a casa dopo il bottino che non potevo portare a casa questa immagine ecco qua stiamo andando via ho i miei due ragazzi dietro di me che magari fate un saluto ragazzi state qua vicino dai dai fate un saluto ciao 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 ragazzi ci vediamo alla prossima ecco qui guardate dov'era dov'è quest'auto ragazzi dai abbiamo fatto tutto il nostro collegamento in diretta con il teletrash di Alessio guardate addirittura nella crepa eh dai Robby come si dice qui da noi vero ragazzi Mauro non è nella crepa no è vero qua altro altro che senti come stanno ridendo questo ragazzo dice si è bevuto il cervello no dai questa è passione no dai è passione col cuore comunque vi salutiamo guardate dov'è l'auto eccola lì guarda adesso noi stiamo andando a casa dai vi faccio questa immagine subito a volo perché non andrà mai via dai ragazzi ecco guardate questo è il fosso eccolo qua ragazzi il fosso gli alberi roti boscaglie sì vera passione c'è tutto mischiato qui insieme a noi eccolo qua eccola qua guardate dov'è l'auto adesso ve l'avvicino perché c'è anche un piccolo particolare che vi devo far vedere che eccola qua me lo sta dicendo prima Mauro guardate il buchino che sta lì eccolo lì ragazzi guardate eccolo là guardate adesso mettiamo a fuoco se ci riusciamo a mettere a fuoco un po' benino eccolo lì guardate il buchino eccolo eccolo là ragazzi questa è dai un fucile altro che pompa qua ragazzi a chi cosa i pallini ci sono qua dai questi sono pallini qualche sciacallo ha colpito ah e dimenticavo ancora c'è lo specchietto lì ragazzi guardate tale quale guarda è sano nella sinca eccola lì guardate veramente un pedalino appena uscito dalla lavatrice ragazzi ormai in uno stato di distruzione proprio fine carriera e fine carriera eccola qua ciao a tutti ragazzi ciao ciao alla prossima alla prossima alla prossima ragazzi bottini fantastici e passione col cuore vero Robby dai passione passione dai sentite qua meno male se Bettini qua pure tu trovai arrivare qua dai dai con questi ragazzi lo stavo dicendo prima bene bene buona cena ragazzi buon fine settimana ciao ciao alla prossima alla prossima ciao ragazzi